Dal 1 ottobre 2012, per effetto dell'accordo quadro tra G.com e Conferenze delle Regioni e dei Consigli Regionali, è stata delegata al Corecom Piemonte l'attività relativa all'iscrizione, alla cancellazione e al rilascio delle certificazioni di iscrizione al registro unico denominato ROC. È stata questa la tematica del seminario che si è svolto a Palazzo Lascaris a Torino.